salve a tutti e bentornati qui su sai che web tv in una nuova puntata di sai che intanto un saluto a tutti da io Pino da Donato e da Valeria salutiamo anche i nostri collaboratori Sebastiano Arianna e Sara ciao ragazzi ciao a tutti e allora sai che come sapete bene sono dei servizi informativi il sai che di oggi di cosa si tratta Donato? Allora di arte cultura storia religiosa la grotta di Santo Ronzi in Turi in provincia di Bari allora questa qui è la seconda parte che noi stiamo facendo vedere è che non è altro che un proseguo della prima quindi quante storie si raccontano della grotta? Ma sapete di un pavimento di maiolica? Quali sono le iniziative della sezione bersaglieri? Ci informa e ci racconta il portavoce della sezione dei bersaglieri di Turi Alberto Lenato e naturalmente salutiamo il presidente Francesco Tria però prima di vederci il video vi ricordiamo che se avete da raccontare o da suggerirci un sai che come prenotate un incontro pre intervista anche solo per informazioni i contatti ritrovate sui social facebook instagram e google e scrivetevi anche al nostro canale youtube sai che web tv oppure basta passare il ditino o il mouse dal dal logo che si trova in basso a destra nei vari filmati che ci sono già nel canale mi raccomando al campanellino per essere aggiornati sui nuovi video e ovviamente i video che vi piacciono mettete anche mi piace commentate insomma fateci sentire fatevi sentire esatto volevo dire proprio fatevi sentire va bene salutiamo ancora tutti quanti ed è il momento di vederci questo video ciao a tutti ciao a tutti siamo a Turi in provincia di Bari presso la grotta di Santo Ronzo con Alberto Lenato portavoce della sezione dei bersaglieri di Turi il sai che di oggi è la storia di questo luogo proseguiamo con la conoscenza di questa grotta con Alberto Alberto che bello questo pavimento è nuovo? diciamo di sì è semplicemente adesso possiamo dire che è stato fatto nel 1740 pertanto non tanto nuovo però è da oggi lo possiamo definire il tesoro di Turi perché il tesoro di Turi perché è attualmente è l'unico pavimento ancora esistente oppure che conosciamo della maiolica di la terza diciamo 1740 1760 perché per circa un anno l'ha studiata all'università di Bari il professor Eugenio Scandale appunto della Politecnico di Bari è stato qui con i suoi collaboratori e ha potuto utilizzando delle apparettiature moderne senza essere invasivo cioè senza togliere alcuna mattonella vedere di come era di che cosa era composto quali erano stati pigmenti utilizzati appunto nel 1700 per i vari colori e adesso sappiamo che ogni mattonella misura tra i 19 cm e 16 cm e 8 cm perciò per essere stati fatti a mano sono quasi perfetti e che ci hanno lavorato tre maestranze perché dico tre maestranze lo si denota dai vari colori dal bianco intenso dal giallo e dal blu questo secondo gli esperti manifesta appunto che è stato realizzato in tre laboratori diversi l'unico problema nostro di oggi è che non conosciamo perché è stato realizzato magari possiamo ipotizzare che sia stato un benefattore un qualcuno che ha avuto qualche grazia e che l'ha donato alla nostra grotta solo che è stato messo alla rinfusa ci sono potete notare che ci sono molte figure di fiori molte figure di animali magari anche simbolici non si nota il gatto il cane ma sembrano dei ferini o degli uccelli su questo io non mi voglio azzardare a fare delle ipotesi perché ci sono degli studi di professori e fin quando non uscirà un libro io non essendo un esperto taccio però vi invito a venirlo a vedere adesso proseguiamo la nostra vista andando verso l'ingresso che era quello originario della grotta adesso ci troviamo nella parte retro e salendo quest'altra scalinata andremo a scoprire come entravano all'inizio prima della costruzione della scala come entravano appunto in questa grotta saliamo la scalinata e ci accingiamo ad arrivare al punto più basso di questa grotta inizialmente siamo scesi fino a 12 metri adesso ci fermiamo nell'unico punto dove ancora oggi gocciola che significa? significa che questa è una grotta avendo costruito su la chiesa e avendo messo dell'asfalto davanti non c'è più gocciolamento pertanto qui per formarsi delle gocce che adesso non vediamo sulla nostra testa ci vogliono almeno 6-7 mesi e gli studiosi di geologi ci hanno spiegato che per formarsi un solo millimetro di concrezione calcarea per formarsi magari un domani le starattite ci vorranno almeno 15 anni pertanto noi preghiamo i visitatori quando vengono di non mettere il ditino dove vedono una goccia purtroppo vediamo che non ce ne sono adesso andiamo verso l'ingresso della grotta ecco adesso ci troviamo in questa altra camera della grotta che ha su l'ingresso originario della grotta adesso la vediamo smussata vediamo le pareti lisce perché? perché negli anni primi anni 80 di qua si sono calati per fare numerosi furti in chiesa e all'epoca pensarono di appunto lisciare e togliere le asperità che c'erano dove ci si poteva aggrappare per renderla sicura è stata posta su una griglia adesso è anche allarmata pertanto siamo più sicuri da questo lato e l'altra cosa che possiamo notare è che non ci sono stalattiti è una grotta dove le stalattiti sono state tutte spezzate oggi grideremmo ci sono state dei vandali c'è stata gente poco accorta invece sappiamo che queste stalattiti sono state spezzate tra il 600 e il 700 1600 1700 da chi? dai fedeli i fedeli quando venivano qua per pregare o per portare i loro ammalati avevano la sana abitudine di portarsi via un pezzettino di concrezione questa concrezione quando erano nelle proprie case e avevano delle malattie la passavano appunto dove avevano il dolore o il male e pregavano noi lo spieghiamo ai bambini di oggi chiedendo loro quando avete la febbre o la tosse che cosa fa la mamma? la mamma chiama il pediatra vi dà la medicina lo sciroppo e tante altre cose all'epoca i bambini non erano così fortunati avevano però le mamme che pregavano e si gridava al miracolo se il male passava è proprio il simbolo di questa grotta è questo monolite o stalagmite che potete vedere è ripreso da questo lato dalle sembianze delle sembianze di una donna una persona che ha in braccio il proprio bambino ecco le mamme dell'epoca venivano proprio in questo luogo a pregare qui ci sono altre altre sette grotte intorno qui c'è l'ingresso sotto coperto da un vetro per renderlo sicuro perché è un po' difficoltoso scendere noi come bersaglieri non abbiamo le autorizzazioni per farle visitare ci vorrebbero gli speleologi o dei permessi speciali per poter scendere vi posso assicurare che questa grotta che l'abbiamo vista più o meno segue il percorso di questa di su si scende di altri 3-4 metri perciò noi siamo già a 12 metri di profondità si va verso i 15-16 metri di profondità e in parte quella quella grotta è stata scavata dall'uomo perché vi dico scavata dall'uomo perché ci sono stati dei segni più o meno siamo al termine della prima guerra mondiale nel 1917-18 si era sparsa la voce che sulla scalinata che abbiamo percorso sul terzo gradino sotto il terzo gradino qualcuno specialmente un re duce della prima guerra mondiale aveva sognato che c'era il corpo di Santo Ronzo dicendo che a Turi c'era il tesoro io vi ho detto prima che il vero tesoro di questa grotta è il pavimento di Maiolica per chi non conosceva la storia non sapeva che il corpo di Santo Ronzo si trova sotto l'altare maggiore della 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 cattedrale di Lecce pertanto ci sono state delle false false notizie all'epoca Sette grotte perché le abbiamo potute esaminare usando il georadar il georadar è stato utilizzato dagli speleologi di Martina Franca che nel 2005 hanno fatto una sorta di esplorazione su quasi tutto il territorio di Turi sappiamo di molte grotte chiuse con cemento purtroppo sappiamo di molte grotte che sono state bombardate usate la dinamite per costruzioni sia pubbliche che civili e mi fermo qui perché andremo nella parte non bella delle grotte di Turi Turi è chiaro non è Castellana non ha le belle grotte di Castellana ma i geologi mi hanno spiegato questo del perché perché Castellana si trova sulla parte alta della cavità carsica mentre Turi essendo l'ultimo paese della Murgia prima di iniziare la terra di Bari ha caverne come vediamo qua caverne alte poi camminatoi bassi poi altre caverne basse altre caverne alte pertanto una grotta che abbiamo all'esterno del cimitero che è qui accanto abbiamo potuto notare che bisogna strisciare gli speleologi per passare da una cavità all'altra o si sono legati per scendere in altri ulteriori buchi o strisciavano ci troviamo adesso davanti all'ingresso del presepe che è stato realizzato dei soci dell'associazione bersaglieri inizialmente vi ho detto che i bersaglieri hanno preso in custodia questo luogo ma non è che l'hanno fatto solo perché in quel momento erano attivi i bersaglieri sono attivi da 16 anni e di questa grotta ne hanno fatto un progetto il progetto è stato anche riportato alle varie amministrazioni che fin qui si sono succedute e uno di questi era quello di far riconoscere o riscoprire questo luogo pensate che dal 2005 data ufficiale della custodia da parte dell'amministrazione di questo luogo sono venute qua 23.000 persone che hanno firmato un apposito registro tant'è che voi che siete qui oggi prima di andar via dovete firmare qui non si paga noi non facciamo pagare un biglietto non chiediamo nulla chiediamo delle firme perché dopo dimostriamo che ci viene gente gente che soprattutto ci pone una domanda ma per quale motivo per 80 anni, quasi un secolo questo luogo veniva chiuso veniva tenuto chiuso beh noi non vi sappiamo rispondere ci sono tante supposizioni non le facciamo ce le teniamo per noi però vi diciamo che in questo luogo abbiamo collaborato con tantissima gente con tantissime associazioni vi ho parlato prima dell'Università di Bari del Politecnico di cui ancora diamo un grazie al professore Eugenio Scandale abbiamo collaborato in primis con una fotoreporter da cui è partito tutto un progetto di riconoscimento di questo luogo e io farei un ringraziamento pubblico alla signora Pina Catino oggi è anche presidente del club UNESCO di Biceglie con lei abbiamo fatto fare delle foto di questa grotta che hanno partecipato a un concorso dell'ente spaziale europeo che ha vinto un premio oggi alcune foto quattro foto con la storia di questa grotta viene riportato in un testo dell'UNESCO e queste foto, queste gigantografie hanno girato anche il mondo ultimamente proprio nel mese di ottobre sempre con l'UNESCO di Biceglie abbiamo fatto un convegno qui su dove ci sono stati dei professori dei val di professore che hanno parlato di geologia di storia, di architettura con il FAI il FAI ha già fatto due domeniche la prima domenica di primavera del FAI ha portato qui anche gli allievi e gli alunni dell'ITC che hanno fatto da guida turistica anche perché noi come bersaglieri non essendo delle guide turistiche non possiamo fare guida vi accompagniamo facciamo aprire diciamo la nostra raccontiamo la nostra storia ma non siamo delle guide pertanto noi auspichiamo sempre che l'amministrazione le scuole portino qui i loro studenti per far conoscere questo luogo un'altra delle associazioni a cui ci tengo di ringraziare è stata l'archeoclub di Bari con l'archeoclub di Bari come avete visto questo ambiente pensate abbiamo fatto la divina commedia non la divina commedia che si fa alle grotte di Castellana senza attori con un professore purtroppo da poco scomparso il professor Totarofina che con un semplice banchetto teneva per almeno due ore inchiodati alle sedie o seduti su cuscini lungo la scalinata ci teneva fermi e in silenzio ad ascoltare la sua esposizione della divina commedia in più ci sono stati anche dei concerti di musica classica o particolari voglio ricordare quello della professoressa della cantante Liuzzi che a Natale ha cantato le Avemarie di diverse nazioni anche quella russa per noi è stato un evento particolare poi un'altra delle manifestazioni che siamo arrivati alla tredicesima edizione ed è quella proprio del presepe in grotta dove si fa nascere Gesù Bambino il giorno 24 alle 5 di pomeriggio e intervengono tutti i bambini soprattutto delle scuole materne che portano qui il loro Gesù Bambino lo fanno benedire e per poi apporlo nel presepe di casa questa è una manifestazione che sta avendo numerosi numerose successo altri concerti se ne sono tenuti e speriamo ecco dopo questo giubileio che si è svolto nel 2018 da quest'anno abbiamo deciso di riprendere queste belle iniziative adesso ripercorremo la scalinata che ci porterà di nuovo in chiesa come notiamo questa scalinata per essere stata costruita nel 1728 ha dei gradini abbastanza bassi perché? perché appunto davano la possibilità agli ammalati di poter scendere agevolmente la scala e raggiungere il luogo sacro in cima alla scalinata che per me è il posto più bello di questa di questa chiesa è questo crocifisso l'Igneo questo crocifisso nel 1998 è stato trovato qui per terra sbriciolato e con un'abile e sapiente opera di restauro adesso lo possiamo nuovamente abbirare io lo chiamo uno splendido giovanotto pensando che ha semplicemente 300 anni la storia vuole che sia stato portato qui all'inizio del settecento in processione durante una siccità la sempre la tradizione vuole che quando siano arrivati qua in processione i fedeli con il clero sia piovuto la data era il 26 agosto e anche oggi ogni tanto abbiamo lo scroscio di acqua facciamo l'ultima rampa di questa scalinata abbiamo solamente salito 56 scalini ci è venuto un pochettino di affanno ma penso che sia normale non per l'età per la mia chiaramente ma perché abbiamo appunto nel risalire abbiamo avuto un po' di problemi ma anche perché parlavamo adesso ci avviciniamo a un altro dei simboli di oronziani che sono presenti in questa chiesa ed è la testa di Santo Ronzo questa testa di Santo Ronzo è stata ricavata in un pezzo di in un mozzo di un traino se avete presente la ruota di un traino la parte centrale questo agricoltore scultore ne ha ricavato la testa di Santo Ronzo nel 1903 sappiamo che si chiama Giuseppe Palmisano ed era un fedele di Santo Ronzo adesso un nipote ci ha anche dato la storia di questo di questo signore e ci racconta che lui un giorno senza dire niente alla moglie si è andato a Lecce ha portato questo questa testa questo pezzo di legno e ci ha ricavato questa splendida scultura e il pensate anche che fino al più o meno 1965 66 questa questa testa veniva portata in processione il 18 ottobre che veniva definita Santo Ronzo di di ottobre perché all'epoca gli agricoltori ringraziavano il Santo per come fosse andato il raccolto sia delle mandorle dell'uva e pregavano in questa cosa poi è stata questa festa ce n'erano tante è stata messa in in disuso e quest'anno proprio il 2019 è stata di nuovo ripristinata questa festa e speriamo che magari anche questa questa reliqua venga portata in processione un altro dei progetti che l'associazione dei bersaglieri di Turi sta portando avanti è quella di far conoscere le lettere che alcuni militari hanno scritto sul fronte della prima guerra mondiale e questo grazie al lavoro che in questi anni hanno fatto i bersaglieri di Turi e ringrazio il presidente Franco Tria il vice presidente Mario Laira Don Vito Di Bello e Chiarappa che sono alcuni dei componenti dell'associazione che magari diciamo danno più valore a queste iniziative ecco le lettere parlano della vita che si faceva sul fronte parlano degli affetti potevano scrivere pochissimo perché le lettere erano censurate dai militari prima di giungere alle famiglie e questo questo lavoro non ha portato altro a farci riscoprire tutti i nominativi dei 114 caduti nella prima guerra mondiale di Turi e da cui siamo partiti anche prendendo i nomi dal monumento ai caduti che è presente in piazza e di là abbiamo scoperto chi aveva famiglia chi era appena ventenne chi ne aveva 35 magari con 4 figli e tante bellissime storie che abbiamo voluto mettere in evidenza in questa chiesa a conclusione di questa nostra visita e vostra conoscenza della chiesa e della grotta di Santo Ronzo permettetemi di ringraziare l'ecomuseo del sistema ecomuseo che ha programmato in questa chiesa una mostra di Mirò questa mostra viene la potete visitare nei comuni di Gioia del Colle Casa Massima e chiaramente Turi ed sarà aperta ogni domenica fino al 26 aprile ci siamo proposti come associazione di di un ambito di un proprio un progetto da portare avanti che è il restauro di questa di questo meraviglioso abito che dovrebbe essere di una sposa dell'Ottocento che necessita di un bel restauro e noi speriamo di poterne trovare appunto dei finanziatori o finanziamenti e con questo vi saluto a tutti voi amici di Saiche Grazie al Presidente dell'Associazione Bersalieri di Turi e a tutti i suoi componenti grazie ad Alberto grazie speciale anche a Don Giovanni sai che può interessare o coinvolgere anche te a Don Giovanni grazie a tutti